La settima giornata di campionato per Lea Maranto si conclude ancora con una vittoria. Al centro sportivo Giacinto Facchetti di Cologno al Serio, le ragazze di Mister Testini vincono per 2-1 contro l'orobica calcio Bergamo. Nel primo tempo al sesto Verdi si libera ed espugna l'area di rigore con il dribbling, ma Salvi respinge il pallone. Al ventesimo l'Arezzo conquista un calcio di rigore per Mani, si incarica della battuta Vicchiarello, ma niente da fare. La prima rete è firmata dall'orobica calcio Bergamo al ventisettesimo, nello specifico da Salvi, che scova in diagonale lo spazio per indirizzare il pallone in rete. Nel secondo tempo le bergamasche operano un pressing intenso su Lea Maranto, non facendole giocare al meglio. Al diciottesimo entra Gnisci al posto di Zelli. Poco prima il direttore di gara sfodera il cartellino giallo per Pasquali e Tuteri. Poi Paganini sostituisce la capitana Verdi. Tutto cambia al ventinovesimo quando un calcio di punizione dà la possibilità a Vicchiarello di rimediare all'errore dal dischetto e centra il gol al trentasettesimo. È uno a uno, un pareggio che durerà poco per il ribaltone, basta attendere il quarantacinquesimo e l'intervento di Paganini che porta a casa il secondo gol di campionato. Una conclusione da fuori aria che permette ai tifosi di esultare a fianco delle calciatrici a Maranto.